Per quanto ci siano le gru ovunque a Dubai, ma 90.000 appartamenti pronti, se fai che una torre mediamente magari ha 300-400 appartamenti, quante cazzo di torri deve avere? Eh, tante! E quindi la gente chiacchiera, ma non sa bene di che cosa chiacchiera. Quindi, si fanno i soldi a Dubai? Sì. C'è tanta grana? Sì. Volete comprare una casa a Dubai? Mi iscrivete e vi metto in contatto con il mio commerciale. Vendiamo sia case... Io sto cercando casa... Perfetto, primary market e secondary market. Il primary market è vendi casa che è in costruzione, il secondary market è a casa già costruita, devi entrarci e poi decisi se la usi per te o per terzi.